Buonasera, sono qui per segnalarvi le iniziative di Promo Serio e in particolare questa settimana daremo rilievo al weekend appena trascorso. Infatti la Val Seriana e la Val di Scalve, rappresentate proprio da Promo Serio, sono state ospiti nel fine settimana scorso all'Overe per il Festival dei Borghi Più Belli d'Italia e a Scanzo Rosciate per la Festa del Moscato di Scanzo. Due stand quindi, proprio ancora in provincia di Bergamo, per poter promuovere al meglio il nostro territorio. territorio che è stato promosso dal punto di vista naturalistico, ambientale e anche culturale ovviamente con il materiale informativo che era a disposizione dei turisti proprio presso gli stand ma anche e soprattutto grazie ai prodotti del marchio Sapori Seriani e Scalvini che sono stati fatti degustare e venduti grazie alla collaborazione con Astra. Abbiamo rilevato proprio un grande successo per quanto riguarda appunto la parte degustativa che come sempre attira molte persone presso lo stand. I prodotti hanno riscosso molto successo, sono piaciuti tant'è che ha funzionato molto bene anche la vendita dei prodotti stessi. Ovviamente poi i turisti interessati sono stati anche informati di quello che riguarda gli eventi e le manifestazioni in Val Seriana e Val di Scalve e anche delle bellezze del nostro territorio. Un grande interesse è stato rilevato soprattutto per la parte naturalistica, per i sentieri, le passeggiate, le grotte e tutto quello che si può fare proprio legato alla natura e al turismo all'area aperta in Val Seriana e Val di Scalve. Ovviamente vi terremo sempre informate su quelle che sono le iniziative di promo serio all'interno del nostro ufficio ma anche e soprattutto sul territorio bergamasco e sul territorio della Lombardia per poter promuovere al meglio i nostri paesi.